Ciao da Avsim, bentornati su Pirlo Tactics, la rubrica di Avsim Tattica di questo canale che vi parla dal punto di vista tattico delle partite della Juventus. Se parliamo allora di Juventus Spezia 3-0, gli spunti tattici, che cosa ha funzionato, che cosa non ha funzionato e come ha fatto la Juve a vincere. Mi aiuta, come sempre, il preziosissimo Pier Giorgio con la sua analisi che vi andrò a leggere dopo, molto puntuale, esaustiva e chiara, ma vi risponde anche nei commenti per vostre richieste di chiarimento e per un dialogo con lui e ci sono anche poi le sue grafiche e quelle che ho preso dai portali di statistica. Quindi passate in descrizione per i link ai miei social e iscrivetevi al canale attivando le notifiche e valutate anche l'abbonamento al canale, già che molto spesso, quasi sempre, Pirlo Tactics è in anteprima per gli abbonati, quindi scoprite i vantaggi spiegati qui sotto. La Juventus ha vinto contro lo Spezia ma non ha certamente offerto una buona prestazione. La prima mezz'ora e anche l'inizio del secondo tempo, quindi complessivamente un 45-50 minuti, sono stati, direi, pessimi. Dal punto di vista dell'interpretazione tattica c'erano zero movimenti senza palla, un giro palla lentissimo, in attacco non c'era praticamente nessuno, non c'erano sinergie e non c'era un'idea di come attaccare. Dopo ho fatto un passaggio, i giocatori si fermavano e non c'erano appunto dei movimenti, delle linee, non c'era un'idea di come costruire seriamente. Dall'altra parte lo Spezia è invece molto più organizzato, uomo contro uomo, alto come baricentro, ma capace di tenere alta anche la pressione sulla Juventus, capace di riaggredire, capace di costruire e di entrare addirittura a palleggiare dentro la nostra area di rigore. Infatti vi mostro intanto la prima grafica di Huskord relativa alle hitmaps. Come potete vedere quella più convincente è quella di destra dello Spezia. Quella è la partita che avrebbe dovuto fare la Juventus contro lo Spezia, ma anche contro il Verona, ma anche contro il Crotone, cioè contro squadre che comunque lottano per non retrocedere o quantomeno si trovano a metà classifica. Invece la hitmaps della Juventus è proprio quella di una squadra che ha subito. Come potete vedere è slegato praticamente la mole di gioco della difesa della nostra metà campo da quella della metà campo offensiva. D'altra parte il baricentro parla chiaro, 34% di tocchi nel nostro terzo difensivo, 40% in quello centrale e 25% in quello dello Spezia. Quindi mi sembra tutto ciò molto chiaro. Ed è enfatizzato ancora di più da altre due grafiche che pure vi mostro. Quella su dove sono stati effettuati, dove sono stati vinti i contrasti da parte della Juventus e vediamo, la Juventus è il cerchietto arancione. Come potete vedere abbiamo vinto quasi tutti i contrasti, oltre che sulle fasce, nella nostra metà campo, mentre lo Spezia ha vinto anche dei contrasti in attacco. In totale sono stati 17 da parte nostra e 9 da parte dello Spezia. Nonostante questo loro hanno vinto più contrasti nella nostra metà campo di quanti noi nella loro. Stessa cosa per quanto riguarda, altra grafica, gli intercetti. Come vedete la distribuzione degli intercetti ci vede assolutamente arretrati come baricentro. Quindi anche a recuperare i palloni siamo stati bassissimi. Poi è chiaro che questo è anche in funzione di una seconda parte di gara, non proprio gli ultimi 45 minuti ma gli ultimi 25-30 in cui abbiamo giocato di ripartenza perché lo Spezia si è alzato ulteriormente dopo il nostro gol e ci ha concesso campo. E di questo pure dovrei parlare perché Pirlo, tra le varie dichiarazioni post partita che trovate tutte trascritte sul mio sito, ha detto lo Spezia giocava molto alto e dovevamo aggredire gli spazi, in particolare sulle fasce creando gli uno contro uno e anche per questo Chiesa mi serve sulla fascia e non in attacco. Bene, una cosa che però la Juve non ha mai fatto. Vuoi perché è stato scelto fra botta titolare, che ha fatto sicuramente una prestazione non convincente, vuoi perché non c'era proprio l'input di lavorare in questo modo. Lo si è fatto solo con il cambio con Bernardeschi che infatti si è trovato quasi sempre libero e per questo ha potuto ottimamente servire praticamente due assist. La stessa cosa possiamo dire di Bentancur che ha servito Ronaldo o di Rabioghi ha innestato lo stesso Bernardeschi sul secondo gol. Giocatori lasciati liberi, quando lo Spezia ha mollato la presa, la Juve è riuscita a giocare. Prima quasi assolutamente no. E allora veniamo alle statistiche. La Juve ha fatto sicuramente il possesso, anzi praticamente no, il possesso l'ha fatto lo Spezia, scusatemi, perché non ci credevo. 47 la Juve e 53 lo Spezia, abbiamo perso il possesso. Abbiamo fatto 471 passaggi contro 531 loro e siamo stati anche più imprecisi. 84% contro l'87%, contando invece che lo Spezia di precisione dei passaggi prima di questa partita in campionato aveva l'81% ed era quattordicesima in Serie A. Per quanto riguarda i tocchi, appunto, 642 la Juve, 711 lo Spezia, quindi volume di gioco maggiore da parte degli ospiti. Ciò nonostante abbiamo fatto 18 tiri totali, di cui 7 nello specchio e 13 da dentro la loro area di rigore, mentre loro hanno fatto 12 tiri totali, di cui 6 da dentro la nostra area e solo uno in porta. Questo si è tradotto in una mole di gioco offensivo, di produzione offensiva, cristallizzata dai dati di Understat, che ci dice che gli expected goals della Juve sono stati 2,62, quindi la Juve ha ampiamente meritato di segnare 3 gol, mentre quelli dello Spezia 1,26. Ma dobbiamo togliere 0,76 del rigore sbagliato, assolutamente irrilevante alla fine, e quindi diciamo che gli expected goals della Spezia sono stati 0,5, in sostanza il 3-0. Ci sta tutto. Sempre Understat ci dice però come è andato dal punto di vista del pressing. La Juve 9,7, lo Spezia 11,7 per quanto riguarda il PPDA, più o meno in linea con i dati pre-partita. Per quanto riguarda i singoli, brevemente, molto rapidamente, poi andiamo all'analisi di Pier Giorgio. Il giocatore con più tocchi e più passaggi è stato Alexandro, con rispettivamente 80,67. Seguono Demiral, 73 tocchi e 60 passaggi, Bentancur, 68 tocchi e 49 passaggi, Danilo, 63 tocchi e 49 passaggi, e infine Rabiot, 54,36. Questo per darvi l'idea di quali sono stati i 5 giocatori più coinvolti. Ma i più precisi sono stati proprio Bentancur, Danilo, Demiral e Rabiot con 91,92% di precisione. Nel mezzo c'è anche Shesnik, che è stato coinvolto tantissimo, forse troppo. 3 equipasses da parte di Bernardeschi e di Kulusevski, 2 da parte di Chiesa. Il giocatore che ha calciato in più è stato Ronaldo, 7 tiri di cui 3 nello specchio, 4 tiri per Chiesa di cui 2 nello specchio, 4 tiri ma 0 nello specchio invece per Kulusevski, un tiro a testa entrambi nello specchio, Demiral e Morata. Ed infine, per quanto riguarda i contrasti che vi facevo vedere prima, i migliori sono stati Danilo e Rabiot con 3, mentre per gli intercetti, 3 ne ha fatti Meccani, 2 a testa, Alexandro e Demiral. Detto tutto ciò, passiamo all'analisi tattica di Pier Giorgio. Questa vittoria della Juventus lascia moltissimi dubbi in ottica del prosieguo della stagione bianconera. Un primo tempo davvero avvilente aveva messo in evidenza una volta di più tutti i problemi enormi della formazione allenata da Pirlo. Pirlo che aveva optato per un ennesimo magheggio tattico inserendo fra botta a sinistra e spostando Alexandro nella posizione di difensore centrale al posto di Delict che aveva dovuto rinunciare per riaccutizzarsi del dolore causato da una botta presa nell'ultima partita. C'era l'opposizione Dragosin ovvero un centrale di ruolo ma l'allenatore bianconero ha preferito cambiare molto di più così come aveva preferito confermare una squadra più muscolare e meno tecnica dalla cintola in su. Nei primi 45 minuti però a parte forse gli ultimi 5 minuti si è ammirata una squadra brillante con un piano gara ben definito che muoveva palla con rapidità e convinzione e soprattutto con le idee chiarissime e questa squadra era l'uspezia. Italiano ha per la seconda volta mostrato il gioco più efficiente al cospetto del suo compagno di corso a Coverciano venendo però battuto nel finale a causa della differenza di qualità soprattutto quando Pirlo ha deciso di cominciare a giocare in undici anche lui. Il piano gara della Juventus era davvero difficile da decifrare nella prima mezz'ora in quanto lo spezzi era padrone assoluto del campo. I liguri non sembravano una neopromossa che si presentava a casa dei campioni d'Italia e giostravano benissimo il gioco approfittando di un avversario che proprio come pochi giorni fa a Verona in casa dell'Ellas stava lontanissima dal pallone. Rimontata nei suoi ultimi 25 metri spettatrice di un palleggio a tratti incessante e veloce ritmato Italiano aveva impostato la partita così mai buttare via il possesso cercare di muovere tanto gli uomini davanti con un ricorso alle rotazioni che ha messo davvero in crisi la Juventus che non riusciva mai ad arrivare non dico a rubare palla ma spesso neanche al contrasto. Soprattutto era bellissimo lo sviluppo offensivo che veniva usato sulla sinistra con Marchizza che veniva a giocare in mezzo quasi da tre quarti ma nella mezza posizione centrosinistra Farias che si metteva più centrale per formare un triolo col maggiore che si allargava. Da quel lato i uomini in maglia azzurra hanno creato tantissimi imbarazzi ai bianconeri che non capivano come e quando avvicinarsi agli avversari col risultato che l'azione spesso e volentieri veniva portata a termine con conseguenti interi secondi passati dallo Spez e a fraseggiare nello stretto addirittura in area di rigore Juventina. Ovvio il tentativo di creare un lato debole per poi andare a colpire. Sull'altro lato Vignali cercava di accompagnare pur considerate le sue caratteristiche più difensive l'azione di Giasi e Zola perché era proprio questo il piano di italiano non avere un punto di riferimento statico una volta completata la transizione manovrata ed accompagnare con 5-6 uomini fermi restando e Stevez che si abbassava sulla linea di Sena e i due centrali difensivi terzi ed Erlich. Questo palleggio tranquillo col gioco che transitava spesso anche per via centrali grazie proprio all'ottimo Sena ed anche ai tempi di uscita quasi sempre sbagliati di Rabiot e McKennie sulla pressione era poi alternato alla soluzione più diretta in quel caso sulle punte che partivano più centralmente per saltare l'accello di pressione alta della Juventus nelle rare occasioni in cui veniva portato ed ancor più raramente con successo. Questo finiva con l'allungare tanto i giocatori di Pirlo quindi pressione scarsa e sconnessa solita, assurda distanza tra i giocatori e le linee e quindi fatica in male a riconquistare il pallone con le azioni spezzine che di fatti arrivavano almeno sempre fino all'area di rigore questa situazione poi comportava una Juventus lontanissima dai suoi attaccanti quando riusciva a riconquistare il possesso quasi sempre dal proprio ultimo terzo difensivo o doveva riavviare l'azione cosa che nelle intenzioni sarebbe dovuta accadere con il solito sviluppo inutile se non si capisce il perché farlo non coinvolgendolo che prevedeva che Danilo si accentri sulla seconda giocata lasciando campo aperto in avanti a chiesa il brasiliano però come abbiamo detto veniva coinvolto pochissimo da quella posizione anche perché era sempre il bravissimo maggiore a seguirne il movimento chiudendolo costantemente qui ecco che si rivedeva il solito problema della Juventus di questo ultimo mese e mezzo un'infinità di tocchi quasi tutti all'indietro o orizzontali che fanno stazionare il pallone nel terzo difensivo bianconero troppo a lungo consentendo ad una squadra qualsiasi di potersi riposizionare prima con coperture e marcature preventive facili da attuare e venire ad aggredire poi costringendo la squadra di Pirlo a buttare palla anche oggi non si sono contati i possessi persi se è facile per la quasi totalità degli avversari figuriamoci per una formazione brillante come quella ligure infatti in molte occasioni si vedevano i ragazzi di italiano a cui bastava solo un accenno di pressione per farsi riconsegnare il pallone quando si è troppo lenti nel far uscire palla nell'effettuare i primi due o tre passaggi è assolutamente inevitabile finire con il perdere fiducia e dare sempre moda agli avversari di ricomporsi e venire sempre più vicino e rimpossessarsi del pallone l'azione poi quando dopo mille fatiche almeno nei primi 25-30 la Juventus riusciva a portare palla di là solitamente più con le corse palla al piede di Rabiot o il solito pallone verticale di Kulusevski che non con una manovra corale ed armonica terminava sempre con questa doppia possibilità palla a sinistra laddove un frabotta troppo timido impreciso tecnicamente eppure sempre in ritardo e fuori posizione lasciava campo a Rabiot o Bentancur e da lì si provava a cercare Chiesa per isolare Marchizza nell'uno contro uno o sorprenderlo alle spalle in zona cieca questo è un difetto che il pur ottimo laterale sinistro dello Spezia dovrà correggere oppure si cercava la percussione per vie centrali ma mai con una combinazione e sempre con tanti troppi tocchi che facevano costantemente ribattere le conclusioni tentate in particolare si notava questa discrepanza tra i due compagini da una parte la Juventus o quasi il pallone di prima perdendo così preziosi tempi di gioco e finendo con lo sbagliare perché forzava la giocata e dall'altra lo Spezia che invece giocava quasi sempre in velocità cogliendo sempre i tempi di gioco giusti e non facendo mai arrivare i giocatori avversari a contatto con il pallone quando il gioco veniva rallentato con qualche tocco di troppo era comunque sempre in sicurezza che veniva effettuata la giocata se invece si sbagliava era sempre in situazioni in cui si era cercata la giocata veloce i due centrali Spezzini venivano giusto attaccati un paio di volte sul campo aperto perché era decisamente la squadra di Italiano a fare la partita con gioco proposta e personalità nel finale si è però visto che sarebbe bastata appena un pizzico di aggressività in più ai bianconeri per sorprendere gli avversari e mettere in risalto i loro limiti quando la Juventus ha alzato il baricentro di una trentina di metri si sono visti 5 minuti di panico totale nei quali gli ospiti non riuscivano più a trattenere un possesso per più di 2 minuti il primo tempo dava una sensazione netta di due squadre agli opposti una delle quali aveva preparato la partita minuziosamente e l'altra totalmente in bambola incapace di sfruttare larghissime porzioni di campo si vedeva sin da subito infatti come le due corsi laterali fossero scoperte ma l'imprecisione di Frabotte e De Miral che nel primo sviluppo andava a destra con Danilo in mezzo unitamente alla lentezza della costruzione facevano sì che Marchizza e Vignali potessero stare costantemente nella metà campo avversaria senza che lo spazio delle loro spalle venisse mai minacciato nel secondo tempo la gara ricominciava nello stesso identico modo una Juventus sempre più imprecisa e che giocava un numero impressionante di palloni verso Scesni che veniva chiamato ad impostare spesso e volentieri si faceva aggredire e stringere dopo un altro quarto d'ora passato in sofferenza finalmente Pirlo leggeva bene una situazione apparsa palese inserendo Bernardeschi al posto di Frabotte e Morata al posto di McKennie ancora una volta completamente fuori partita questa mossa coglieva un po' impreparato italiano che non riusciva a comunicare bene ai suoi attaccanti di accorciare sui ripetai Bernardeschi si piazzava proprio laddove Frabotte non era mai riuscito ad andare cioè a contatto con Vignali già in avvio di azione allungando lo Spezia finalmente c'erano stati momenti in cui si vedevano le ultime due linee dei Liguri quasi fondersi tra loro schiacciate in poco più di 15 metri e consentendo ad Alexandro di aprirsi per giocare questa palla profonda a scavalcare sulla sinistra e così nasceva il primo gol eppure il raddoppio era figlio di una pressione troppo lenta svoiata e pigra da parte degli attaccanti dello Spezia con l'ingresso di Ramsey poi si trovava un uomo sempre bravissimo a farsi vedere smarcato tra le linee e dettare linee di passaggio che peraltro non sempre venivano accolte dai compagni lo Spezia si snaturava inserendo una punta pesante come Galabinov oltre a verde che rivitalizzava invece un po' la corsia destra spezzina a Campora invece si piazzava sul centro-sinistra con bastoni che doveva dare più spinta la mossa riusciva a metà anche perché ormai la Juventus sentiva di avere la gara in pugno e giocava con minore precipitazione riuscendo a minacciare con il campo aperto da sfruttare la serenità dei giocatori nel giocare palla dei Liguri così si arrivava fino al termine della gara una partita che se l'italiano avesse avuto Ronaldo e Morata dalla sua sarebbe finita con un esito diverso e che non deve illudere perché la Juventus ha mostrato dei limiti enormi nella proposta di gioco e quasi una nullità di idee oltre ad una formazione iniziale evidentemente sbagliata con una prestazione di questo genere il Porto non si batterebbe bisogna che Pirlo riprenda la via che ha smesso di percorrere da un certo punto in avanti perché questa Juventus attuale non è né carne né pesce vediamo l'analisi dei gol e poi le grafiche 1-0 pallone che usciva con troppa facilità dall'ultimo terzo difensivo di Juventino senza alcuna pressione da parte dei prima linea Spezzini così Bentancur allargava sulla sinistra verso Alexandro che aveva tutto il tempo di alzare la testa e giocare palla sopra sulla corsa di Bernardeschi che coglieva di sorpresa Vignali qui il laterale bianconero si portava verso l'area e serviva un pallone corto poco oltre il primo palo con terzi soprattutto Erlich colpevoli di essere troppo larghi ed il 28 di farsi beffare da Morata che pur partito alle spalle dell'avversario lo bruciava sullo scatto anzi lo piantava proprio in asso e segnava da sottomisura 2-0 stavolta l'azione partiva dal lato opposto Danilo usciva in anticipo e giocava palla dritta sul Rabiot il francese era talmente indisturbato che aveva la facoltà di ricevere voltarsi e guardare il movimento di Bernardeschi ancora una volta pronto a cogliere in preparata la retroguardia dello Spezia sulla fase dell'ampiezza il tutto senza venire mai attaccato il passaggio del francese era preciso e lì Bernardeschi era bravo a convergere verso il centro sfruttando ancora una volta una certa passività dei difensori di italiano al centro dell'area c'era Chiesa che aveva tagliato dentro e dopo essersi visto respingere la prima conclusione a rete da un buon riflesso di Provedel realizzava un gol bellissimo calciando a rete da sdraiato in caduta e beffando il portiere con questa traiettoria maligna 3-0 Agumé che era subentrato nel finale di gara scivolava dopo essersi già impicciato con il pallone tra i piedi su un accenno di pressione di Bentancur ennesima transizione in corsa dell'uruguayano che osservava il movimento a dettare il passaggio delle punte e dopo dava per servire Ronaldo coi tempi giusti qui il portoghese era implacabile a battere Provedel con un diagonale sinistro che si insaccava in buca d'angolo alla sinistra del portiere Spezzino le grafiche prodotte da Pier Giorgio ci mostrano la situazione iniziale della Juventus come primo sviluppo con Demiral e Alexandro che si aprono per ricevere questo si è visto chiaramente e praticamente l'avanzata di Frabotta sulla sinistra ma soprattutto l'accentrarsi di Danilo in mezzo al campo di fianco a Bentancur che come abbiamo detto però non veniva mai servito il brasiliano la palla si muove a questo punto lentamente e ogni linea di passaggio viene chiusa dai movimenti degli avversari gli spazi che si potrebbero sfruttare alle spalle degli esterni bassi dello Spezia non vengono raggiunti perché sono impossibili da raggiungere come fai a mettere palla lì se butti palla lunga la difesa dello Spezia ti rimonta perché è in vantaggio quindi non si crea la possibilità di aggredire la zona luce né si riesce a sia riuscito a costruire un volume di gioco nella parte centrale del campo nella seconda grafica vediamo invece lo sviluppo offensivo con annesse proiezioni da parte dello Spezia e quindi Estevez che va vicino a Sena si formano due triangoli con l'aria che viene liberata per favorire una prima occupazione dinamica e qui vediamo la grande ottima organizzazione appunto dello Spezia perché con delle semplici triangolazioni con dei semplici posizionamenti ben fatti si riuscivano a creare molte linee di passaggio da poter aggredire da poter attaccare e tante volte effettivamente lo Spezia è penetrato centralmente nella nostra area di rigore anche se poi è riuscito a effettuare un solo tiro in porta ma qui probabilmente si è vista la differenza di qualità della squadra di italiano rispetto alla Juventus dalla terza grafica vediamo invece la giocata tipo della Juventus intanto vediamo nei cerchi i giocatori dello Spezia che sono ben posizionati per le preventive e per ripartire cosa che tra l'altro lo Spezia fa anche sui calci d'angolo disimpegnando quindi dalla zona offensiva molti giocatori della Juve che devono star lì a coprire su un'eventuale ripartenza una tattica molto interessante molto aggressiva e molto coraggiosa e quindi si forma un triangolo a sinistra e si cerca di far ricevere la palla a Chiesa dall'altra parte che possa attaccare la zona cieca dietro Marchizza le punte dello Spezia sono sempre pronte a ricevere in caso di riconquista però come appunto abbiamo detto in realtà queste ripartenze non si sono tanto viste ma non si è neanche tanto vista l'aggressione alle spalle della zona cieca da parte di Chiesa su questo cambio di gioco non per problemi di Chiesa ma più che altro perché al massimo a Chiesa si poteva affidare al solo Kluseschi non c'era un triangolo anche da quest'altra parte vediamo poi le ultime due grafiche elaborate da Pier Giorgio nella penultima vediamo lo sviluppo dopo i cambi della Juventus e quindi vediamo Bernardeschi sicuramente più a tutta fascia con Kluseschi che a quel punto spostato più sulla sinistra in quanto c'era l'ingresso di Morata riusciva a giocare più palloni ad essere più presente sulla tre quarti continuava ad esserci lo sviluppo di Danilo che andava verso il centro del campo anche in questo caso comunque non tanto servito non tanto preso in considerazione ma soprattutto Morata che attaccava la profondità e si faceva trovare tantissime volte lì nella zona d'attacco ed infine la proiezione con Alexandro che si apre e Bernardeschi che attacca lo spazio quindi andiamo a vedere più nello specifico lo sviluppo della grafica precedente che cosa succede quando la Juve ha effettivamente il possesso in zona offensiva ecco come potete vedere si attaccano molto meglio gli spazi c'è praticamente un uomo in più sulla linea d'attacco cioè ne abbiamo praticamente quattro Bernardeschi largo a sinistra Chiesa dall'altra parte e Morata che finalmente attacca la profondità con Ronaldo lì nei pressi la posizione di Kuluseschi è quella di un giocatore che va a formare eventualmente anche un triangolo lì sulla fascia quindi sicuramente molto meglio dopo i cambi effettuati da Andrea Pirlo grazie per la vostra attenzione come già detto Pier Giorgio vi risponde nei commenti per le vostre curiosità mettete like a questo video di analisi d'attica se vi è piaciuto e dite la vostra comunque nei commenti iscrivetevi al canale attivando le notifiche per i prossimi video ci vediamo molto presto e sempre forza Juve